Nello stesso momento sulla Jolly Roger il capitano ha ritrovato il suo pepello e sorride ammirando la sua immagine nel l'uncino pece. In quel momento la ciurma raggiunge il pece. Ecco il vostro retacolo, dice Spugna. Ora potete aiutare il capitano a scendere dalla pambola. Così Spugna e Uncino si avvicinano alla ciurma e notano Cubbi che sta bruando a... Dentro la scatola c'è un... A molla. Cubbi è preoccupato perché non sa come usarlo ma Izzy lo rassicura. Ti insegneremo noi. Poco lontano il vento ha fatto volare il cappello di Capitanoncino su una... Palma. Uncino si arrampica sulle spalle di Spugna per raggiungerlo. Ma è troppo in... Lato. Bravo. In quel momento la ciurma raggiunge i pirati. Ecco il vostro giocattolo, dice Spugna. Ora potete aiutare il capitano a scendere dalla palma. Lì. Finalmente Cubbi può esercitarsi con il trampolo a... Molla. Molla. Tuttavia un altro ticchettio farà brevidire il capitano. Come fa il ticchettio? Tic. Acche. Tic. Tacche. Tic. Tacche. 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 Invece i nostri amici festeggiano la fine di questa avventura. Oggi si sono meritati otto dobloni d'oro da aggiungere a loro... Mamma mia il coccodrillo! Il coccodrillo! Hai visto? Posso dare un cino? Andate a prendere il capitano uncino? Sì. Oggi si sono meritati otto dobloni d'oro da aggiungere a loro... Forziere. Forziere. Ora, ecco... Ecco. Ecco la umana che si vede davanti. Bello.